Buonasera e ben ritrovati. Siamo all'appuntamento con la rassegna stampa di Red News 24, la nostra edicola con le prime pagine dei giornali che tra poco troverete anche voi proprio nelle vostre edicole. Il mattino di Puglia e Basilicata sulla nostra edicola, il rapporto sconcertante dell'ONU sul genocidio nella striscia, quindi spazio anche ai temi internazionali, donne e bambini, il 70% dei 43.508 morti a Gaza, ma Meloni e Biden difendono i fanatics di Bibi. Poi al centro manovra alle armi per Trump, la spinta congiunta di Meloni e Draghi sulla difesa, il 2% alla Nato vale 10 miliardi, più di un terzo della finanziaria. La polemica a Giorgia e Eli tra caviale e olio di ricino, riferimento al botta e risposta tra la premiera la segretaria delle PD. E poi la sanità, dicevo anche prima, sempre un tema in primo piano nei territori e dai territori, sanità, il governatore Lucano Bardi ha processo tra le accuse del presunto mercimonio politico elettorale a Lago Negro, il rinvio a giudizio deciso dalla Procura di Potenza, prima udienza il 20 gennaio. Questi dunque alcuni degli spunti sulla prima del mattino di Puglia e Basilicata.